musica 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 una deficiente sono una deficiente e la ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono JD e finalmente dopo più di un mese siamo tornati sotto il avia allora non mi ricordo più un cazzo nel senso non mi ricordo cosa cosa avevo fatto mi ricordo che ho preso un paio di stelle aia e io sono stupida ma vabbè questo lo abbiamo tutti madonna sto diventando stupida andiamo un po' più avanti da questo lato oltre il mega albero allora rame ok adesso quando torniamo a casa vediamo cosa posso farci grazie alla furnace quello lì è di ghiaccio cacchio che non li tolgo un piz però ma fermo 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 ah l'uccellino rosso aiuto 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 ah no 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 tu tu aia aia ma ma che muori aia ma perché perché ho questi problemi ah ma sei pezzo di merda allora dillo dillo che sei pezzo di merda no 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 aaaah ok salva 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 niente insomma non è niente allora altro ghiaccio altro ghiaccio altri alberi vediamo se c'è qualcosa di più interessante tipo un deserto così prendo la non è che l'ho già trovato il deserto io sono subito ok allora cerchiamo un deserto così io mi prendo aaaah ok così io mi prendo il cactus finalmente un agente sei di rame oh no si sono già arrivata alla parte contaminata ma che blocco di ghiaccio rosso è vero la parte contaminata ahhh bingo ciao bingo come stai Adesso che ho finito tutto Ragazzi Cosa importantissima è che mi ero dimenticata Sono uscita con 84 Sono bravissima Dobbiamo andare dall'altro lato Scusatemi E vediamo Se c'è il deserto E se c'è un'altra zona contaminata Mincazzo come ne è Oh no, una di quelle gobbe enormi Andiamo lì dentro Alice del rame Io direi Piano Piano Sì Mettiamola che io mi cacco Sì la rop Cos'è questo? Coltello da lancio No 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 Cos'è stato? Cos'è stato? Oh no Io mi ca- Adesso appena arriva sta merda Ammazziamo E ammazziamo anche te Non farmi troppo danno però Ti prego Ok Fantastico Andare indietro Però prima ti faccia fuori No No Merda Devo spostare Ma mi prudeva troppo l'orecchio Ok Quello dove cazzo? Andrò fuori Scusate Poco Oh cacchio Sono arrivata di qua Oh Devo prendere il meteorite Per So che è già tutto Per Non ce la posso fare Per scavare Questi Così qua Che mi danno delle arbe 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 Mi danno Ok Mi danno Delle armi stratosferiche Solo che Devo fare attenzione Che non ci siano trappole Perché qui È impossibile che ce ne siano Non so Eh però Quanta roba che ho trovato qua Oh no C'ho poi ora Ah 167 di corda Fantastico Ah ok Cos'è quello? Una testa di zombie Oh cazzo No Che minerale è questo? Lo devo avere subito Cos'è? Cazzo Telefono Mi fai cagare in mano Ma cos'è sto schifo? No Non mi interessa Mi cago Tanto vabbè Se muoio L'unica cosa che perdo Sono i soldi Ah Che è quella? Una palla? Ah L'ho sentito di nuovo Minchia Adesso Adesso mi cade addosso Non ci scommettete Oh Vaffanculo Vedete Sono una deficiente Minchia Sono pronta a saltare E niente Non sono saltata Non ce l'ho fatta in tempo Sono stupida Sono molto stupida Però Almeno C'ho delle casse Babin parei Pozioni Corda La corda mi serve Assolutamente Più 4 possibilità Di colpo critico Io me lo metto Fantastico Consente la raccolta Di viticcio Dalle viti Bellissimo Così non le distruggo Yes L'anvil Bellissimo La mettiamo qua Yes E qui sotto Ce ne sono due Cacchio sul tetto E una di là Qua tasta No Aia Ma io ho la spada Sono idiota Affanculo Vedi che ti faccio danno Allora Mammi Vedi Io sono stupida Credo Che voi l'abbiate capito Perché dai Era qui attaccato Il deserto Io che lo cercavo Come una dispera Oddio Le formiche di merda No No Mi fanno un bordello Di danno Questo è sicuro 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 Aia Le sciolte Le sciolte Le sciolte Le sciolte Ma perché cazzo Non le faccio danno Aiuto Da carica Fon Eh Sono stato scorticato Da Qualche bestia Di satana Probabilmente Posso farmi La spada Di cactus Yes 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 Ok Au Fantastico Vabbè Scusate Se è stato un po' lento Come episodio Ma stavo cercando Sto Sto piffero Di robo Che non ho Che ho trovato Quando ce l'avevo Attaccato al naso Ho dovuto fare il giro Del mondo Perché sono stupida Ci ho messo 28 minuti Per trovare Sto piffero Di cactus Quindi Se questo video Vi è piaciuto Lasciate un bel like Commentate Condividete Soprattutto Iscrivetevi E noi ci rivediamo Sempre qui Con JD Di Soprattutto Soprattutto